Ciao, sono Eduardo Romeno, mi chiamo Giuliano, ciao, sono Fabio Padella, mi chiamo Nicolò Ruggero, ciao, sono Stefano, Stefano di Virginia, mi chiamo Noni Martino, mi chiamo Paolo Porcellana, mi chiamo Sottia Coria, mi chiamo Rengondi Alice, Zoe Joy, Alice, mi chiamo Giorgio Asti. Ho sedici anni, sedici, ho sedici anni, sedici, sedici, ho sedici anni, ho sedici anni, ho sedici anni, sedici, 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 diciassette. Sono nella classe terza ASP Faccio la terza ASP Faccio la classe terza ASP Faccio la terza ASP Faccio la terza ASP Terza Terza ASP La classe terza ASP E la classe terza ASP Terza ASP Faccio terza Il mio hobby è la fotografia Mi piace la fotografia, le grafiche Il mio hobby è il calcio Giocare a calcio Giocare a parola Mi piace leggere, cantare, andare in maestra Mi piace leggere, guardare e sentire